La fibra è un mare di offerte, ma solo una ti dà la libertà di scegliere la soluzione che vuoi. Aruba Fibra ha un'offerta chiara e senza vincoli. Corre fino a 10 giga in download ed è la migliore per qualità prezzo. Ha il router e chiamate limitate con zero costi di attivazione. E parte da soli 17,69 euro al mese. Aruba Fibra, connessi ma liberi. Grazie a tutti.